Il fattore età dovrebbe contare poco, anzi non dovrebbe contare nulla, perché quello che dovrebbe contare nella posizione di C-Levers sono altri aspetti, è la visione, è la capacità, sono le competenze, sono la possibilità di effettuare delle performance eccellenti. L'esperienza sta tornando ad avere una sua importanza, quindi è chiaro che nella valutazione complessiva di quelle che sono tutte le caratteristiche, è chiaro che il fattore età e ciò che si è fatto, soprattutto in precedenza, ha il suo peso di riferimento. Magari la cosa sta un po' peggiorando paradossalmente, mentre forse in passato si erano un po' più coraggiosi nell'inserire figure anche con qualche grado di rischio, mi lasci dire, vista l'età di conseguenza. Oggi si va un po' più sul sicuro, oggi le aziende nostrane tendono ad avere la professionalità un attimino più robusta, sicura, magari con non grandissime potenzialità. Non è colpa dei millennials italiani se negli steering committee abbiamo pochi millennials, è colpa un po' di una cultura italiana, nel senso che bisognerebbe capire che bisogna fare delle esperienze, fare delle esperienze significa anche accettare le sfide, accettare le sfide molte volte significa andare fuori, vivere fuori, vivere in circostanze differenti, ma per un giovane italiano andare all'estero a fare esperienza professionale significa andare a Londra, Parigi e New York. No, non esistono più Londra, Parigi e New York. Oggi esiste il Kazakhstan, esiste il Vietnam, esistono le Filppine. No, non esistono più Londra, Parigi e New York.